Ciao a tutti e benvenuti in questo video, dove vi mostreremo i 5 migliori tablet 12 pollici presenti sul mercato. In questo video vi mostreremo le caratteristiche e i prezzi dei tablet più popolari, in modo da poter scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze, per aiutare a migliorare la qualità della vostra vita. Iniziamo! Numero 5. Al quinto posto troviamo Honor. Esplora l'innovazione e la potenza con questo tablet di alta gamma, che combina un display straordinario, prestazioni elevate e funzionalità avanzate in un design elegante, offrendo un'esperienza tablet superiore. Goditi un'esperienza visiva straordinaria grazie al display 2K FullView da 12 pollici. I colori vividi e i dettagli nitidi trasformano la visione di contenuti, film e giochi in un'esperienza immersiva. Con 128 GB di spazio di archiviazione, hai spazio sufficiente per app, foto, video e molto altro. Gli otto altoparlanti integrati offrono un'esperienza audio straordinaria. Potrai goderti musica, film e contenuti multimediali con un audio chiaro e coinvolgente. La batteria ti offre un'esperienza di utilizzo prolungata. Inoltre, grazie alla ricarica veloce, puoi avere il tuo tablet pronto in breve tempo. Il design elegante e sottile è studiato per offrire confort e stile. Il colore blu si distingue e aggiunge un tocco di personalità al tuo dispositivo. Il tablet è dotato del sistema Android, offrendo un'esperienza familiare e accesso a un'ampia gamma di app tramite i servizi Google. Puoi personalizzare il tuo tablet come desideri. La connettività Wi-Fi ti consente di navigare, guardare video e utilizzare le tue app preferite in modo rapido e affidabile. Goditi la connessione fluida e senza interruzioni. Questo tablet è pensato per offrire un'esperienza tablet completa. Dalla produttività all'intrattenimento, è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze. Goditi il potere, il design e le funzionalità avanzate in un unico dispositivo elegante. Il prezzo è di 349 euro. Numero 4 Al quarto posto troviamo Xiaomi. Se stai cercando un tablet che unisca prestazioni eccezionali, design raffinato e una batteria che ti accompagni tutto il giorno, allora questo dispositivo è la scelta ideale per te. Dotato del potente processore Qualcomm, offre prestazioni che superano le aspettative. Puoi svolgere multitasking, navigare in modo fluido e utilizzare le tue app preferite senza problemi. L'imponente display touch con risoluzione 2.5K ti offre immagini dettagliate, colori vivaci e un'esperienza visiva coinvolgente. Sia che tu stia guardando film, creando o navigando, ogni dettaglio si distingue. La batteria è ottimizzata per durare fino a 14 ore con un singolo ciclo di ricarica. Questo significa che puoi lavorare, giocare e divertirti senza preoccuparti di rimanere senza energia. Il design elegante si abbina a un involucro di alta qualità che offre una sensazione premium. Portalo con te ovunque tu vada, facendo una dichiarazione di stile. Con connessioni Type A e Type C, puoi collegare vari dispositivi con facilità. Inoltre, il cavo di ricarica assicura una ricarica veloce e affidabile. La fotocamera frontale da 5 megapixel ti permette di partecipare a videochiamate e conferenze con immagini nitide e chiare. Sarai sempre connesso con chiunque tu desideri, ovunque tu sia. Se sei una persona in movimento che cerca prestazioni elevate, un design accattivante o un'esperienza senza interruzioni, è la soluzione perfetta per te. Questo tablet ti offre un'esperienza completa. Che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di intrattenimento, questo tablet si adatta a tutte le tue esigenze. Goditi ogni momento con un tablet che ti sostiene in ogni aspetto della tua vita. Il prezzo è di 399 euro. Prima di continuare ad elencarti i migliori tablet 12 pollici in vendita sul web ti ricordo di attivare la campanella e di iscriverti al canale, per non perderti le recensioni sui migliori prodotti di ogni categoria presenti online. Numero 3 Al terzo posto troviamo Lenovo. Questo tablet di alta qualità offre prestazioni avanzate. Un display eccezionale e un'esperienza audio straordinaria. Tutto racchiuso in un design raffinato. Ti offre immagini mozzafiato, colori vivaci e dettagli nitidi. Guarda film, sfoglia foto e crea con una qualità visiva superiore. Grazie al processore Mediatek Compagno, offre un'esperienza multitasking fluida e veloce. Puoi lavorare, giocare e navigare senza problemi. Grazie agli speaker JBL integrati, potrai godere di un'esperienza audio straordinaria. Guarda film, ascolta musica e partecipa a videochiamate con un suono ricco e coinvolgente. Con connettività Wi-Fi e Bluetooth, ti mantiene connesso in modo affidabile. Il tablet si presenta in un elegante colore Storm Grey che si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente. Il design sottile e raffinato lo rende una piacevole aggiunta al tuo stile di vita. Sia che tu sia un professionista, uno studente o un appassionato di intrattenimento, questo tablet si adatta alle tue esigenze. Il prezzo è di 499 euro. Numero 2 Al secondo posto troviamo QV. Questo versatile dispositivo offre un potente processore Core i5, un ampio spazio di archiviazione e un display full HD per soddisfare tutte le tue esigenze digitali. L'ampio display offre immagini cristalline e dettagli nitidi. Che tu stia lavorando o godendo di contenuti multimediali, il display ti offre un'esperienza visiva coinvolgente. Puoi svolgere attività multitasking, eseguire applicazioni complesse e lavorare senza problemi. Goditi una connettività internet veloce e affidabile grazie alla connessione dual Wi-Fi. Sia che tu sia a casa o in movimento, sarai sempre connesso. Combina le funzionalità di un tablet e di un laptop, offrendoti versatilità e praticità. Puoi utilizzarlo per lavorare, creare o goderti l'intrattenimento in qualsiasi modo desideri. Il sistema operativo Windows 11 offre un'esperienza utente intuitiva e moderna. Potrai eseguire le tue applicazioni preferite, multitascare e personalizzare il tuo dispositivo come preferisci. Puoi elevare la tua produttività ovunque tu vada. Sia che tu stia prendendo appunti, elaborando documenti o esplorando nuove idee, questo dispositivo ti supporta in ogni momento. È progettato per offrire un'esperienza completa. Dalla produttività all'intrattenimento, questo dispositivo si adatta a ogni aspetto della tua vita digitale. Goditi la libertà di esplorare, lavorare e divertirti con un dispositivo all'avanguardia. Il prezzo è di 529 euro. Numero 1 Al primo posto troviamo Samsung. Esplora l'apice della tecnologia tablet con questo tablet straordinario, che unisce un display eccezionale, prestazioni potenti e una serie di funzionalità avanzate per offrirti un'esperienza senza precedenti. Immergiti in immagini vivide e dettagli sorprendenti grazie al display Dynamic AMOLED. La risoluzione impeccabile offre colori vivaci e contrasti profondi per un'esperienza visiva superiore. Sia che tu stia giocando a giochi complessi o eseguendo applicazioni intensive, questo tablet è all'altezza di qualsiasi sfida. La batteria ti offre un'esperienza di utilizzo prolungata senza preoccuparti della ricarica frequente. Puoi goderti il tuo tablet per lunghe sessioni di lavoro e intrattenimento. Con il suo design raffinato e la certificazione IP68, è resistente all'acqua e alla polvere. Portalo ovunque tu vada, senza preoccuparti degli imprevisti. Il tablet è alimentato da Android 13, offrendo un'esperienza utente moderna e intuitiva. Puoi accedere a un'ampia gamma di app, personalizzare il tuo dispositivo e sfruttare tutte le funzionalità avanzate. Grazie al display mozzafiato e all'audio coinvolgente, ti offre un'esperienza di intrattenimento superiore. Guarda film, gioca a giochi e ascolta musica con un realismo sorprendente. Il tablet include un caricabatterie da 45 Watt per una ricarica veloce e conveniente. Avrai il tuo dispositivo pronto in pochissimo tempo. Con questo tablet, hai l'opportunità di possedere una vera e propria meraviglia tecnologica. Entra nel futuro della tecnologia con questo dispositivo all'avanguardia. Il prezzo è di 1149 euro. Ecco, siamo giunti alla fine di questo video. Speriamo che le informazioni fornite vi siano state utili nella scelta del tablet più adatto alle vostre esigenze. Grazie per averci scelto e per aver guardato questo video. Non dimenticarti di lasciare un bel like se il video è stato di tuo gradimento. Siamo sempre a disposizione per qualsiasi domanda o dubbio. Buona fortuna nella scelta del vostro tablet e a presto per nuovi video utili e interessanti. Grazie per la visione.